Tutti con il fiato sospeso sulla futura giunta al comune di Teramo. Tra poche ore sapremo chi resta dentro, dei vecchi assessori, chi torna a casa, chi entra per la prima volta. L'incognita più grande è la presenza nell'esecutivo di Italia Viva, che oggi conta tre consiglieri, Giovanni Luzzi, Osvaldo Di Teodoro, ex Teramo 3.0 e Flavio Bartolini, fuoriuscito dal PD. Il nuovo gruppo chiede di riconfermare la vicesindaco Maria Cristina Marroni e alle consultazioni con il primo cittadino d'Alberto si presenta Alfonso Di Sabatino Detto Dodo, ex vicesindaco di Brucchi e oggi Renziano. È lampante che l'ingresso in giunta di Italia Viva non è gradito agli altri gruppi di maggioranza. Il partito di Renzi, in provincia di Teramo, fa riferimento all'ex parlamentare Tommaso Ginobble e l'asse, che quest'ultimo avrebbe costituito con il centrodestra di Paolo Gatti nel rinnovo dei vertici della Ruzzoreti, è stato denunciato con forza dagli alleati di D'Alberto. E in questo momento di importanti decisioni, l'ambiguità dimostrata da Italia Viva sembra non essere garanzia di stabilità futura. E che i renziani, forse, siano stati già scaricati, lo si può capire da un post furioso pubblicato su Facebook dal consigliere Luzzi, che lamenta un isolamento politico del suo nuovo partito e parla di invidie e gelosie all'interno della maggioranza. Anche se Italia Viva non dovesse far parte della nuova giunta d'Alberto, la partita dei numeri in consiglio comunale si chiuderebbe comunque con un pareggio, cioè a numeri invariati. Fuoriescono i tre consiglieri renziani ed entrano i tre civici della minoranza, Mauro Di Dalmazio, Graziano Ciapanna e Giovanni Cavallari. A quest'ultimo andrebbe la fascia di vicesindaco. Blindati nella nuova giunta resterebbero Andrea Core e Valdo Di Bonaventura, mentre tutti gli altri ex assessori restano in bilico. È probabile che da sette si passerà a nove assessori, uno dei quali nominato direttamente dal sindaco d'Alberto. Il centrodestra intanto parla di fallimento politico del governo della città e prova a ricompattarsi e promette un'opposizione dura.